Ciao amici della recensione, parliamo oggi di Topolino 3431 con una copertina che si vede, è di Paolo Mottura Che bel tratteggio di questo bellissimo Fantomius, perché ricomincia, va avanti, Paperbridge, guardiamolo meglio insieme Una copertina strepitosa, adoro questa parte tratteggiata, bello anche tutto il resto, il colore di Luca Merli Mentre appunto il copertinista ufficiale è Paolo Mottura, davvero bellissimo Cominciamo subito perché le cose da dire sono davvero tante, a partire da Dactopia, che dall'otto settembre, ovvero tra una settimana circa, almeno per me Uscirà appunto Dactopia, che dovrebbe essere una saga fantasy, vediamo se effettivamente sarà un flop o qualcosa di interessante Mentre sono molto più curioso di 3-2-1 azioni, siamo seri, è la nuova saga di Silvia Ziche in collaborazione con Sergio Badino Due autori che comunque rispetto molto, quindi aspetto di vedere per poi giudicare Alex Bertanni in questo editoriale ci dice poco in realtà, non troppo, se non quello che andremo a leggere proprio in questo fumetto A partire anche da Silvia Ziche che appunto continuerà e comincerà la sua nuova avventura Paperbridge, capitolo 6, è la prima storia Gervasio fa tutto, soggetto, sceneggiatura, disegni e persino la supervisione del colore Paperbridge ce l'avevano lasciati con una serie di imprevisti e di eventi accaduti L'ultimo più importante è la presenza di cuore di Petrafame d'oro, che vi dico già non compare in questa prima parte, nonché la sesta Inoltre, se vi ricordate, Quacky e Tommy erano riusciti ad entrare nella confraternita E proprio Quacky, nonché Lord Quacket, nonché Fantomius, nonché colui che darà gli albori ai Paperinic E era riuscito a smascherare Crimen, ovvero il professore che dava un po' queste scenate Questi eventi misteriosi e criptici e soprattutto segreti, quasi come se fosse una setta E dunque si riprende un po' da quello che è accaduto Siamo al secondo anno, dopo due settimane di pausa O comunque facciamo finta come se fosse passata l'estate Tornano, o meglio non ricordo se effettivamente c'erano, ma mi sembra di sì Le ragazze a Paperbridge, c'è una vignetta che viene scritto che effettivamente troveranno luogo anche per dormire le donne Quindi compresa Bette, che già conoscevamo, e ne sono sicuro, nella scorsa Paperbridge, nelle scorse puntate Ma non ricordo onestamente se erano già presenti nel dormitorio di Paperbridge stesso Comunque un dettaglio secondo me irrilevante È presente questo professore che non mi ricordavo esistesse Ecco, non mi ricordo un po' di piccole cose, ma purtroppo quando leggo una saga Mi piacerebbe leggerla tutta ad un fiato O comunque nel giro di pochi giorni, non dopo diversi mesi Forse avrei fatto un'anteprima un pochino più succosa Per lo meno di questa prima pagina iniziale Che sì, mi è stata utile, ma avrei voluto qualcosa di più La storia è proprio di passaggio Serve, e su questo Gervasio riesce benissimo A reinserirci nel mondo Senza esagerare, senza mettere troppa carne al fuoco Semplicemente dicendoci, occhio Perché, vi faccio spoiler Qualcuno, colui che era a crime in un tempo In realtà ancora esiste, questo uomo mascherato Con questa faccia, con questa maschera da pappagallo Con questo becco gigante In realtà è ancora presente lì in quella struttura Dove la setta si riuniva Vediamo la settimana prossima, o comunque per qualche giorno Come finirà Alla fine arriva Zazu Questo è un editoriale che non sto seguendo Mi interessano molto relativamente questi editoriali E poi abbiamo l'ultimo momento di Reginella Parte 2 Alex Bertani con Vito Stabile Mentre Zanchi ha il disegno I primi due ovviamente Ha il soggetto e la sceneggiatura Molto particolare, non mi ero ancora espresso questa saga Il fatto che Alex Bertani Nonché il direttore di Topolino Sia presente fisicamente Insomma nella saga Nell'episodio Anche nel primo Cosa che non so se era mai successo con la De Poli In questo caso Bertani insieme a Stabile Ha proprio scritto la sceneggiatura E anzi Bertani solamente il soggetto Nella prima parte Molto emozionante Paperino Arriva a Pacificus O comunque arriva nel luogo in cui Reginella è presente Solo che si viene a creare un super malinteso O comunque uno scarico di colpe Perché? Perché Reginella pensa che Paperino Soprattutto in questa vignetta bellissima Ce ne sono tante di vignette belle Reginella pensa che Paperino Non si ricordi di lei Paperino pensa che Reginella Non si ricordi di lui E alla fine tutto sommato Nessuno dei due fa finta di ricordarsi Ma in realtà si conoscono bene Reginella non vedeva l'ora di rivederlo E Paperino idem Una storia molto toccante A partire anche dall'altra puntata Che non ho commentato perché ero in vacanza Ma che davvero vi consiglio di leggere E poi Stefano Zanchi riesce a realizzare dei disegni Sovrannaturali Bellissimi Che riesce benissimo a immedesimarsi Nella parte di un Cavazzano Secondo me forse anche meglio Arrivo a dire che va benissimo Con i papiri Soprattutto con Reginella Infatti mi ricordavo molte sue storie Con lui disegnato Io pensavo di vedere Cavazzano E ma che Stefano Zanchi Grande sorpresa La storia poi narra di un'avventura Che serve Anche se non si voleva arrivare a tanto A far rinnamorare A far riconoscere Paperino e Reginella Visto l'assunto Che fan finta di non conoscersi Ci sono delle vignette Vi ripeto spettacolari Per quasi tutta l'avventura Reginella lacrima Così come Paperino Si nota proprio Quindi rimani lì come sul dire Chissà cosa accade Quasi quasi Paperino Starebbe bene con Reginella E invece Ti crolla il mondo addosso Quando Paperino dice a Reginella A Paperopoli C'è qualcuno che mi aspetta Ed è la papera più dolce del mondo E questo capisco Di Reginella È il capisco È la frase È la parola Più emozionante Forse sia in buono Che in male Di tutto il racconto Perché fa capire Come l'amore dà L'amore toglie Reginella Follemente innamorati Paperino Si ritrova a dover rinunciarlo Ecco Io mi sono molto immedesimato In questa storia Non che l'abbia vissuta Ma magari molti di voi Sì Chissà Insomma Il vedersi scaricare Seppur per una buona ragione Da chi si ama La storia toccante Che poi viene condita Da queste tavole Che sicuramente un domani Riceveranno Un formato migliore Non so fra quanto tempo Perché effettivamente Questa dovrebbe essere L'ultima avventura Vedremo se però è così Perché Boh Secondo me Reginella è un personaggio Così come Ha visto il vertigo Così come tanti altri Degli ultimi anni Anche se Reginella Ha un passato Ben più storico Di continuare a vivere Non ha senso Terminarli Visto che L'amore di storia Può essere ancora Molto valida Anzi Ora Reginella E Paperino Si conoscono Non hanno perso la memoria Non la perderanno E a maggior ragione Reginella Perché no Farla arrivare a Paperopoli E farla anche rimanere lì Boh Non lo so Insomma Si può davvero fare Di tutto e di più Ecco abbiamo la trilogia Di Reginella Riproposta appunto Con questa bella Copertina di Cavazzano In Deluxe Edition Che io però evito Perché le storie Già le presento Già nei Dopolino Originali Ufficiali L'eredità di Paperino Soggetto Sceneggiatura E disegni Di Carl Barks Questa è una storia Già esistente Mi pare Sì Assolutamente Che sbarca In Italia Negli Albi Tascabili Topolino numero 56 Adesso Non capisco perché Viene scritto qua Il codice storia 3431 Quasi come se La storia Effettivamente Per la prima volta Viene rilasciata Sul topo Che potrebbe essere Anche così Ma avrebbero dovuto Scrivere il codice Della Alba Tascabili Topolino numero 56 Secondo me La storia è molto bella Io non la conoscevo Ma è Carl Barks Tra l'altro Una storia del No Del 49 Quindi parliamo di Una vita fa Insomma Penso che non ci sia Nessuno Che mi segua Che ricordi questa storia Quando uscì nel 49 Penso Poi sarebbe davvero bello In realtà Se qualcuno si Palesasse Ma sarebbe tipo Mio nonno O anche di più Insomma Paperino Paterino Vive un'avventura Piuttosto Già vista In realtà Con i nipotini Che devono fare un po' Da sommozzatori Da Persone che recuperano Ecco Dal fondale Ancore Navi Pezzi di barca E guarda caso Arrivano a recuperare Proprio una nave Affondata dello zio Paperino cerca Di scucire i soldi E lo zio stesso Proprio per cercare Di intascarsi qualcosa Insomma Per compenso Ma lo zio È dannatamente Più furbo Di lui E questa storia Lo conferma Io non vi dico altro Perché alla fine Diventa una storia Non più legata Sulla nave Ma legata ai soldi E lo zio È furbissimo Ragazzi Ma ovviamente Non c'era bisogno Di questa storia Per capirlo E qua abbiamo Un bello editoriale Di parola Baragaruffi Che ci ricorda Il brevetto negato Infatti Karl Kroyer Che è un inventore Danese Si vede soffiare Un suo brevetto Di invenzione Perché Qualc'anno prima Circa 15 anni prima Karl Barks Con Paperino Avevano già ideato Questo Questa tecnica Per riuscire A recuperare Navi cargo Per mezzo Di materiali galleggianti Insomma Qualcosa di Pazzesco Paperino Viene riconosciuto In diversi stati Del mondo Come per esempio In Olanda Il vero detentore Di questa invenzione E non Karl Kroyer Incredibile Mamma mia A volte Le storie di Isè Sono davvero Dei preludi Dei premonitori E non è solamente Questa l'unica Ce ne sono anche Tantissime italiane Che fungono un po' Con questa funzione Alla fine Inaspettata A sorpresa Archimede E la normale Vacanza geniale Vito Stabile Ancora una volta E Valerio Ed Il disegno Disegni molto freschi Mi piacciono Molto curati Dettagliati Il tratto molto pulito La storia Un pochino di meno Non perché Non mi piaccia Semplicemente Ecco Passiamo da Papebridge A Reginella Grandi storie A questa Messa su questo paragone Ecco Anche quella di Karl Barks Questa qui È decisamente Inferiore Ma non Ripeto Per puro paragone Di quello Che ho appena letto Visto che La trama Narra sul fatto Che Archimede Come spesso accade Ha una crisi creativa E Paperino Lo invoglia Anzi Paperina Lo invoglia Fin da subito Di farsi una vacanza E staccare Diciamo che La coppia è inedita Perché non ricordo Una storia In cui Paperina Coinvolge Archimede E altri amici di lei In vacanza Quindi sicuramente È particolare Il contesto Però non ci ho trovato Nulla di che Alla fine Archimede Cerca di ingegnarsi Ugualmente Non riesce a staccare La spina E le sue invenzioni Saranno un po' ridondanti Vediamo anche Paperina Un po' arrabbiata Ma alla fine Risulteranno importanti Ecco Come appunto Uno si può aspettare Però La storia Diciamo È dimenticabile Ecco Topolino in giallo Brivido A Beaver Gulch Marco Bosch E Marco Mazzarello Anche qui Il disegnatore In questo caso Mazzarello L'ho rispetto tantissimo Perché ho avuto Modo di conoscerlo Di persona E conosco Anche non so Sto parente Quindi insomma L'ho rispetto Molto come disegnatore Anche qua Come Valerio Elde Ha un tratto Molto pulito Molto dettagliato E preciso La storia Anche qua Segue una serie Di cliché canonici Ovvero Topolino e Mini Si ritrovano in vacanze Guarda caso Nel luogo In cui dovrebbero Effettuare un camping E montare la propria tenda Si ritrovano in una tenda Schiacciata Rotta Con una serie di indizi Che fanno capire a loro Che purtroppo Qualcuno qui c'è stato E qualcuno qui è scomparso E ora non c'è più Insieme dunque Allo sceriffo Edna Un personaggio particolare Perché non capisco Che animale sia Un gatto Un topo Non lo so Con i capelli arancioni Vabbè Arriveranno a risolvere Il mistero Con una serie di Ripeto Clicé di indagine Che già conosciamo Ovvero Topolino e Mini Che vanno a indagare Parlando Lo sceriffo In questo caso Edna Che indaga A través del computer Con una serie di indizi Che hanno trovato Appunto Nella tenda E non di più La storia Ha un suo finale Ha un suo senso Tutto sommato A me piace leggere i gialli Piace leggere Topolino Come personaggio Però Ecco È una storia già vista Tutto qua Non voglio dire Che non sia scorrevole Lo è Ma è una storia già vista Permettetemi di dirlo Alla fine Cerco di essere Il più oggettivo possibile Almeno per me Che sono dieci anni Che leggo Alla fine Qua abbiamo Due belle bombe Che ci ricordano Che escono a novembre E lo so Cari miei Vi darò I miei 70 euro Ma Non è che io Ci tenga molto Perché comunque Sono sempre soldi Che vanno Seppur volontari Verso le casse Della Panini E qui abbiamo appunto Un editoriale Di anteprima Legato a Sergio Badino E Silvia Ziche Su che programmi avete O comunque Siamo serie Tutti retroscena Dicono loro Dei vari Serie tv Che conosciamo Anche noi Appunto Nella realtà Chissà Probabilmente Tra backstage Curiosità E aneddoti Silvia Ziche E Sergio Badino Riusciranno In ciò La copertina Ci viene già spoilerata Non solo qui Ovviamente Ma anche Alla fine dell'albo Onestamente Io non sopporto Lo sapete Quando si va A scrivere Sulla cover Perché secondo me Non serve a nulla Scrivere quel Wack Si gira È abbastanza Palese Ed evidente Quello che Stia accadendo Ovvero Paperina Che monta Una scena Quindi perché Scriverlo Non lo so In edicola Troviamo L'EGM Paperino Due fumetti Che comprerò Per mia collezione L'EGM Onestamente Mi stanno un po' Stancando Ma arriverà Anche solo Una fine L'almanacco Già l'ho preso Ve lo spoilerò È qui L'ho anche già letto Ve ne parlerò Poi Fra un paio di giorni MMM Anche l'ho già letto E alla fine Recensito Quindi ho preso Praticamente Tutta questa settimana Abbiamo appunto Siamo serie Capitolo 1 Paper Capitolo 7 Pippo E la polca Del Fakiro Calisota Social media Young Donald Duck Che io non sopporto Ma vabbè Leggerò Mini Gondoliera E la grande Regata Del Doge Questa mi interessa Giusto per il titolo Il resto Vedremo Carlo Appanare Stefano Zanchi Terminano l'albo E questo appunto È il fumetto Un fumetto promosso Per metà Secondo me O comunque promosso A pieni voti Sicuramente Per Paperbridge Che è una saga Che io Veramente aspettavo Di leggere Seppur ho dimenticato Qualche dettaglio Ma secondo me Irrilevante Quello sulle donne O quello sul professore Non penso sia utile Saperlo Ecco Poi se qualcuno Nei commenti Me lo può dire Ma è solo Per chiarezza Reginella L'ho adorata Sicuramente La rivedremo Io spero vivamente Di rivederla In una sua storia La storia su Carl Barks Bellissima Assolutamente Comunque Barks La storia su Archimede Un pochino noiosa L'ultima Un pochino ripetitiva Semplicemente Già vista Però insomma Tosommato Io darei un 7 7 e mezzo Nell'interezza Il voto Purtroppo Si è un po' abbassato Per le ultime due storie Ma vabbè insomma Direi promosso Ecco Non da 10 O da 9 Ho visto i topolini migliori Ma anche per la copertina Dai 7 e mezzo Io lo possiamo dare Almeno per me Ragazzi Per oggi è tutto E alla prossima Ciao ciao